Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi apriremo tre pacchetti Adrenalin. Luca puoi tranquillamente scartarli. Vai! Ok, cosa è uscito? Vediamo. Allora, Biraschi. Vediamo Biraschi. Chiesa. Uh, Bernardeschi! Vitale. E vediamo le due scarte speciali. Il difensore chi saranno? Prima il difensore? Sì. Anzi, tutti adoro, faccio vedere la stessa cosa. Ok. Uh, chi è linea, Roman? E poi una coppia imbattibile dell'Atalanta. Ma vabbè, questo pacchetto va bene, Luca. Adesso apriamo il secondo pacchetto. Speriamo di trovare qualcosina in più. Ok. Cosa abbiamo trovato? Oh, Rodriguez. Poi, De Lecce. Piero Cione. Parolo. Vesino. Bessa. E questo qua non capisco il nome. Poi, vediamo, qui abbiamo come... Due centrocampisti. Due centrocampisti. Uh, zaniolo! E diamante, sì. Diamante e poi... Un idolo. Barreto. Idolo. Ok, bello anche questo, dai. Sì, ci sta. Terzo pacchetto. E ultimo. Speriamo di trovare qualcosina. Giusto. Allora, abbiamo trovato Proto. Poi... Deron. Deron. Questo qua. Questo tizio abbiamo trovato... Di nuovo. Ma tu, è un doppione. Poi questo. Sunthunder. Sunthunder. Vitale. Ancora Vitale. Un attaccante e un portiere, ragazzi. Prendiamo il portiere. Prima il portiere. Uh, cragno quanto d'oro. Poi vediamo l'attaccante chi è. Io penso che sia una stella oppure un idolo. Dai, gira. Io penso che sia una di quelle carte normali. Lantì? Sì. Uh, Ronaldo! Cristiano è un mezzo d'oro. Mamma mia! Mamma! Ronaldo! Cristiano! Mi passa qua, Ronaldo! No, è che se ne frega di tutta la vita. Guardate! Ronaldo! Abbiamo trovato Ronaldo! Beh, ragazzi. Questa è tutta e alla prossima. E abbiamo trovato comunque Cristiano Ronaldo. Come fragevo tot! Attaccante. Ma fragevo.